Ciao a tutti ragazzi, allora, volevo dirvi una cosetta Ehm, sì, scusate, ma oggi avevo voglia di mettermi questi... Queste belle orecchioni da gatto Vabbè, lo so che Halloween è già passato, però avevo voglia di metterli Vabbè, comunque, volevo dirvi una cosa Per gli amanti di Hotel Transylvania Francesca ha visto ieri Allora, su Google aveva notato Allora, per primo, un sito dove puoi scaricare Sonic Forces dal telefono o dal PC Non lo so, non ha capito di preciso cosa era E in più, per primo, ha visto il trailer, in inglese, di Hotel Transylvania 3 Che poi dopo qualche minuto, dopo qualche secondo, hanno caricato anche il trailer in italiano Ed è una cosa bellissima Perché faranno un'avventura in crociera E... vabbè, non sto a dirvi più Non sto a dirvi tutto perché non voglio spoilerarvi Cioè, non voglio rovinarvi la sorpresa Ecco E niente Volevo dirvi questo E che vi lasciamo il link Link in descrizione Se volete vedere il trailer E... Ragazzi Ehm... Se vedete... Se vedrete il trailer O l'avrete già visto Ehm... Scrivete sotto nei commenti cosa ne pensate E se andrete a vederlo anche voi Di sicuro Francesca sì Perché... Insomma C'è tanto affezionato a Hotel Transylvania Come ho detto in un video E niente ragazzi Dopo avervi detto questo Io vi saluto E ciao ciao